ben trovati ben trovati a tutti da parte di Marco Fabriani oggi parliamo di bullismo perché nove giovani su dieci a Roma sono coinvolti in questi episodi con noi in studio ve lo presento subito Fabio Piacenti presidente di EURES ovvero ricerche economiche e sociali ben trovato nei nostri studi su questo tema avete fatto un'indagine qual è il risultato? Il risultato si muove su una serie di linee il primo è la quantificazione come anticipava il fatto che nove giovani su dieci in qualche modo nell'ultimo anno sono stati direttamente coinvolti in episodi di bullismo questo significa che il 65% ne è stato vittima il 38% ci ha detto di averne commessi e oltre l'80% invece è stato testimone diretto di questo fenomeno. E cosa pensano questi questi bulli che è un gioco che è uno scherzo che non fanno del male perché lo fanno? Lo fanno innanzitutto perché sono ragazzi problematici e secondariamente perché sottovalutano gli effetti del proprio comportamento questo è uno dei risultati importanti occorre lavorare perché i bulli comprendano che il loro comportamento non non ha conseguenze che si fermano nei cinque minuti successivi con la risata con la sottovalutazione ma le vittime di bullismo e soprattutto quelle che noi abbiamo chiamato le vittime ricorrenti cioè le persone che vengono regolarmente prese di mira di bulli hanno nella maggior parte dei casi un disagio di tipo psicologico una forte perdita dell'autostima problemi che arrivano come purtroppo sappiamo perfettamente anche al fenomeno di autolesionismo se non addirittura insomma. C'è anche il presidente un disagio familiare? Quando noi andiamo a vedere il comportamento del bullo sicuramente il 7 giovani su 10 individuano nel disagio del contesto familiare la principale causa per cui un bullo agisce in un determinato modo. La seconda è quella della scarsa autostima e la terza è ovviamente la esigenza di venire accettati agli altri. Mancanza di controllo da parte degli adulti, dei genitori? Segnalata con grande attenzione il ruolo del contesto adulto, genitori, famiglia, scuola sono dei riferimenti importantissimi. C'è il bullo, la vittima e poi ci sono le persone che osservano, che guardano altri ragazzi. Perché non intervengono, non denunciano? Anche loro per sottovalutazione. Diciamo che mentre 4 giovani su 10 non intervengono nel resto dei casi abbiamo visto che c'è comunque un comportamento proattivo, quindi qualcosa viene fatto. Ma quando ciò non viene fatto è proprio perché non ci si rende conto delle conseguenze. Quello che viene fatto è tante volte, un altro elemento importante, il fatto che c'è questa condivisione sul fatto che la vittima se lo meritava. Presidente, l'intervento, la prevenzione? Quale può essere? La prevenzione non deve essere, secondo noi, limitata alle sole campagne di comunicazione e formazione. I giovani ci hanno detto che non ci arrivano, non ci interessano. L'intervento deve essere un intervento di tipo psicopedagogico che coinvolga i bulli da un lato e i loro genitori dall'altro. Altro elemento fondamentale è il coinvolgimento capillare delle scuole perché abbiamo segnalato, ed è un fatto importantissimo, che laddove la scuola e i docenti vengano coinvolti, nell'80% dei casi noi abbiamo un arretramento o addirittura il completo annientamento del fenomeno del bullismo. Ma lì bisogna fare anche dei corsi di formazione agli insegnanti su questo aspetto legato al bullismo? È anche un tipo di lavoro che abbiamo fatto in questo progetto. La formazione è fondamentale, riconoscere i fenomeni, i fattori di rischio, riconoscere fin dall'inizio tutto ciò che riguarda il bullismo in modo da intervenire prima che le conseguenze diventino gravi. Perché in una fase iniziale il bullismo può essere effettivamente, può non riportare quelle conseguenze importanti che abbiamo registrato. Se viene fermato subito è possibile creare anche una mediazione, quindi un intervento che faccia dialogare vittime autori e questo abbiamo visto che ha un'efficacia veramente rilevante. Grazie a Fabio Piacenti, lo ricordo Presidente Eures, ricerche economiche e sociali. Grazie Presidente, grazie per essere stato qui con noi. Un grazie a voi tutti da Marco Fabriani.